Record di incassi al botteghino messicano, Coco è l'atteso film delle feste Disney e Pixar. Colorato, musicale ed emozionante, la storia gira attorno al giovane Miguel che vuole diventare un grande musicista. Ma la famiglia di Miguel, soprattutto sua nonna, non sono della stessa opinione. In casa di Miguel, infatti, la musica è vietata. Come farà a realizzare il suo sogno? Intanto Disney e Pixar ha rilasciato una clip in cui ci viene mostrata la terra dei morti. Potete vederla qui di seguito, il giovane Miguel ha un sogno, diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita qualsiasi forma di musica, da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e vario pinta terra dell'aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector, insieme intraprenderanno uno straordinario viaggio alla scoperta della storia, mai raccontata, della famiglia di Miguel. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino.